Nuove regole per la vita notturna dei giovani imposte dall'ordinanza del sindaco Leluco Orlando con cui il comune di Palermo prova a mettere un freno alla movida selvaggia nelle ore notturne ed evitare situazioni di assembramenti, così come previsto dalle misure anti-Covid-19. In particolare, il provvedimento vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle 8 e dopo le ore 20. Niente più alcolici in giro per la città, dunque nelle ore serali. Dopo le 20 si potranno vendere e consumare cocktail e altre bevande alcoliche solo all'interno di locali, bar e pub o negli spazi esterni di loro pertinenza. Il divieto non si applica però ai laboratori artigianali di produzione, come gastronomie, gelaterie e rosticcerie, a condizione che non siano in alcun modo utilizzati contenitori di vetro. L'esercente ha inoltre l'obbligo di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, ma non solo, l'ordinanza impone l'obbligo di chiusura al pubblico all'1.30 per pub e locali. In caso di violazione delle regole imposte all'ordinanza, sono previste sanzioni amministrative fino a 5.000 euro.